Siccome c'era stata quella battaglia lì, che morti e feriti sia fascisti che partigiani, quelli contrari al fascismo, contrari alla guerra che c'era, e dicevano i fascisti che a Bulciago dovevano distruggerlo completamente. Non so se il giorno dopo, o forse dopo qualche giorno, sentiamo un rullo che veniva da Barzago, da lontano. Erano tutti cararmati che venivano, convinti che erano quelli che dovevano rasare al suolo Bulciago perché c'era stata quella battaglia. A Bulciago non si sentiva un'anima viva, un rumore, niente, buio. Allora era vietato la luce, guai, tutto buio. Io non so, ce n'è stato uno che ha avuto la capacità, è andato giù di quella scalinata lì che saranno 100 gradini, e vanno giù a finire dove c'è l'incrocio Bulciago con Bulciaghetto, che passa la statale. E' andato giù lì e si è accorto che non erano i fascisti che venivano, come hanno detto loro, a rasare al suolo Bulciago, ma erano americani che venivano a liberarci, ma carri armati alti come lì, porca. Io non dico neanche un quarto d'ora, Bulciago era giù tutto sulla provinciale, erano forse le dieci di sera, è buio, e hanno cominciato a gridare, sono arrivati gli americani, Bulciago. Ci davano un pezzetto, avevano le tavolette di cioccolato, e lì li distribuivano, e magari uno gli vedeva che avevano lì il pacchetto delle sigarette, l'americano, aveva lì, senta, puoi darmi una sigaretta? Perché allora guai, ci volevano i soldi, ci voleva la tessera, ci voleva, per fumare, e, sì, 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 io tirava in via una sigaretta, te, è che tocca come un bucchel, un ropicello che ci mette in bucchel, non l'ha mai vista.